ciao a tutti bentornati nel canale di studio 72 oggi andremo a vedere come eseguire questo effetto comunemente chiamato effetto sin city che non so se avete presente il film ma come potete vedere è un film di quentin tarantino dove appunto sono stati presi i particolari in questo caso in rosso mentre tutto il resto è stato reso in bianco e nero per rendere appunto questo contrasto lo stesso effetto possiamo trovarlo anche in nel film di scinder list della famosa scena della bambina col cappotto rosso ed ora andiamo a vedere appunto come poter eseguire questo effetto prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale quello non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial apriamo nostro after effect io ho preso questa scena del film di joker dove c'è lui appunto che parla e quello che andrò a fare appunto a selezionare le parti rosse in questo caso il cappotto e nel trucco in faccia appunto la bocca il naso e le sopracciglia per fare questo la prima cosa che andiamo a eseguire è duplicare il livello quindi facciamo command d sulla tastiera e andiamo a duplicare il nostro livello io lo rinomino in questo caso mettiamo joker particolari in modo che so che questo è dove andremo a selezionare solo i particolari in rosso una volta fatto questo facciamo doppio clic sulla nostra sequenza si aprirà appunto questa finestra io adesso la vado allargare un po in modo da avere la visuale migliore e a questo punto andiamo qua in alto andiamo a selezionare lo strumento rotoscoppio lo strumento rotoscoppio per chi non lo sapesse ho già fatto un tutorial su questo semmai vi lascio il link in descrizione funziona in questo tipo praticamente ci dà un pennello che possiamo andare ad aumentare tenendo schiacciato command sulla tastiera poi se ci spostiamo verso destra come vedete ingrandisce nostro pennello e se lo spostiamo verso sinistra lo rimpicciolisce e cosa ci permette di fare di andare a selezionare parti della nostra immagine come vedete lui praticamente fa il calcolo dei pixel e seleziona tutti i pixel più o meno dello stesso colore in questo caso ha selezionato parte della giacca che noi non interessa quindi cosa dobbiamo andare a fare intanto andiamo a rimpicciolire un po il pennello quindi command verso sinistra poi tenendo premuto alt come vedete diventa rosso col segno meno all'interno e ci permette di andare a togliere parti della selezione in questo modo quindi cerchiamo di andare a sagomare il meglio possibile la giacca i bordi della nostra giacca quindi anche qui vado a rimpicciolire un po il pennello qui andiamo ad aggiungere se volete spostarvi con la mano senza andare ogni volta a selezionare la manina qua basta ottenere premuto il tasto centrale del mouse o la rotella dipende da come avete il mouse vedete vi accompare la mano vi spostate mollate e avete di nuovo il vostro pennello a rotoscoppio quindi andiamo a selezionare la nostra giacca in questo caso non ci preoccupiamo più di tanto se ce le selezioni capelli anche perché andando a fare in bianco e nero i capelli sono neri e non si nota quindi in questo caso non c'è nessun problema una volta selezionata questa parte andiamo dall'altra e andiamo a fare la stessa procedura quindi andiamo a selezionare la nostra giacca guardiamo che i bordi siano pressoché che seguono pressoché la nostra la nostra giacca in questo caso come vedete si è selezionato un po di libro quindi facciamo alt andiamo a togliere in questo modo una volta finito con la giacca andiamo interagire su sul viso questo caso sul trucco quindi io vado a selezionare le parti rosse quindi vado a diminuire un po il pennello e andiamo a selezionare appunto la bocca una volta selezionata la bocca andiamo a selezionare il naso come vedete qua ci ha selezionato anche il di sotto quindi andiamo a togliere ok in questo modo e alla fine andiamo a selezionare le sopracciglia ok una volta finito di selezionare volendo possiamo già andare a vedere una preview di quello che se torniamo su composizione andiamo a vedere la preview di quello che abbiamo fatto in questo caso non si nota niente ma per il semplice motivo che dobbiamo andare sulla sequenza sotto andare a fare in effetto quindi questo punto di bianco e nero se noi andiamo a posizionare qua come vedete ci rende in bianco e nero il video sotto e in particolare i rossi ce li marca qui qua già possiamo iniziare a intravedere il nostro effetto torniamo sul nostro livello quello dove abbiamo appunto utilizzato il rotoscoppio qui come vedete si vede poco però c'è una barra dobbiamo andarla ad allungare per tutta la durata del nostro video e adesso arriva la parte diciamo più noiosa ossia quella di fargli calcolare tutto il video in modo che segua perfettamente il nostro tracciato possiamo farlo in due modi se il tracciato è semplice ci basterà fare play lui pian piano parte e inizia a fare l'analisi di tutto il video però come vedete qua già ha perso un po' qui dalle labbra qui dal sopracciglio quindi quello che consiglio di fare io in questo caso è tramite il pannello dell'anteprima fotogramma per fotogramma andare avanti e man mano che ci sono dei punti da sistemare andarli a sistemare quindi quello che dobbiamo fare è tornare qui andargli a dire di selezionare queste parti anche qui dal sopracciglio avevo perso parte del colore una volta sistemato andiamo avanti ancora con i nostri fotogrammi come vedete torna a perdere e quello che dobbiamo andare a fare praticamente è tornare a selezionare le parti che perde in modo di avere un risultato più ottimale possibile anche qui ha perso parte della selezione vedete questi punti qua si vede che sono talmente piccoli che fa fatica a calcolarli quindi c'è da stare qui con buona pazienza e andarli man mano a tornare a selezionare come vedete fa fatica ecco a selezionarli anche manualmente quindi figuriamoci a fare i suoi calcoli questa è la parte più noiosa però purtroppo come vedete continua a perdere quei punti lì c'è da armarsi di buona pazienza e andare a fare questa procedura fotogramma per fotogramma quindi già stanca a farlo per un video di 10 secondi potete immaginarvi fare un intero film in questo modo non deve essere alquanto piacevole ora io naturalmente non starò a farvi tutto il video perché diventerebbe lungo e anche senza senso anche perché comunque la procedura è sempre quella dovete andare avanti e man mano andare a sistemare i punti che perde se volete andare a vedere meglio il vostro risultato come vedete questa è la parte di video che abbiamo appena fatto in questo caso tipo adesso mi porto un po' che avanti magari dove si vede meglio tipo qui possiamo andare a dirgli di possiamo andare a togliere i denti perché comunque risulterebbero sul rosso adesso seleziono un punto dove si vedono un po' meglio vedete in questo caso si basterà andare qui zoomare e andargli a dire tenendo il premuto alt che questa parte di denti noi vogliamo che diventi bianco e nero quindi la andiamo a deselezionare in questo modo se noi torniamo qui come vedete questa parte di denti ce l'ha tolta anche qui possiamo andare a vedere che la giacca non è selezionata perfettamente quindi ci basterà andare qui andare a sistemare la nostra selezione più o meno in questo modo se noi adesso torniamo di qua come vedete l'ha già selezionata meglio anche qui ha perso parte della bocca comunque la procedura bene o male l'avete capita è questa qui c'è da andare man mano a sistemare le parti che vogliamo ottenere in modo tale da ottenere il risultato più più veritiero possibile vedete questo è il nostro risultato poi volendo se noi andiamo ad applicare tipo un effetto di tonalità e saturazione possiamo anche andare tipo a risaturare leggermente il nostro vestito possiamo anche andare a dare più luminosità però così sarebbe poco realistico tipo io direi che così è più accettabile come vedete questo è il risultato che ben o male otteniamo ripeto è un lavoro molto lungo e noioso però diciamo che alla fine il risultato è molto d'impatto perché comunque riusciamo a rendere tutto il nostro filmato in bianco e nero tenendo come buoni solo alcuni particolari a colori bene questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial vi ringrazio di avermi seguito vi rinnovo l'invito iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto lasciate un like al video se vi è piaciuto commentate per qualsiasi cosa visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti